Fun! Numbers! Un incidente elettrico lo riporta in vita, e così riporti e scarpe rosse. Più tempo trascorre nella forma di bambola, più il suo aspetto diventa umano, con sopracciglia più folte e una maggiore stempiatura. Per evitare di rimanere una bambola per sempre, si rende conto che deve trasferire la sua anima in Andy, la prima persona a cui ha rivelato la sua identità. Ma prima che possa farlo, viene bruciato nel camino e fatto a pezzi. Nel tentativo di dimostrare che non è mai stato vivo, in La Bambola Assassina 2 i produttori della bambola ricostruiscono ciacchi dai suoi resti carbonizzati, con tratti del viso più grandi e una saloppetta più colorata. Un incidente elettrico lo riporta in vita, e così riprende la sua ricerca di Andy. Nonostante si sia dotato di una mano coltello, viene costretto in un macchinario e perde le gambe. Ancora determinato, le sostituisce con un carrello, ma poi viene fuso con la plastica liquida e la sua testa viene fatta esplodere. Otto anni dopo, i resti di ciacchi vengono recuperati in La Bambola Assassina 3, ma quando il suo sangue gocciola in una vasca di plastica fusa, viene ricostruito e rinasce, questa volta con un volto più paffuto e schiacciato. Riesce a trovare Andy, ma poi sceglie un nuovo obiettivo per il trasferimento della sua anima. Alla fine viene tagliato da un'attrazione del Luna Park, ottenendo un nuovo aspetto a due facce, per poi essere fatto a pezzi da una gigantesca ventola. Ma... in La Sposa di Chucky viene ricostruito e risvegliato con la magia voodoo. Ora ha un volto meno schiacciato e una vistosa stempiatura. Tiffany, la sua fidanzata umana, diventa Bambola. Lo accompagna nel recupero di un amuleto magico con il potere di trasferire entrambi i nuovi corpi umani. Ma dopo qualche lite domestica, Chucky viene colpito e lasciato in una tomba. In Il figlio di Chucky viene creata una nuova bambola animatronica per un film su Chucky, insieme alla sua co-protagonista Tiffany. Questo Chucky ha capelli più biondi e vestiti più chiari. Il loro figlio, barra figlia perduto, li trova e utilizzando l'amuleto magico li riporta in vita. Poi, dopo qualche disaccordo familiare, Chucky viene fatto a pezzi dal suo stesso figlio. Tuttavia, la maledizione di Chucky è di nuovo tutto intero. Ora ha una salopette più scura, pelle più pallida, capelli rossi lisci e stranamente nessuna cicatrice. Passa la maggior parte del tempo in forma di Bambola, con occhi spalancati, provocando una strage in segreto ai danni di Nika, costretta sulla sedia a rotelle, e la sua famiglia. Quando Nika scopre che è vivo, Chucky le spiega che, da umano, conosceva la sua famiglia e brama vendetta. Mentre Nika viene incolpata per gli omicidi recenti di Chucky, Chucky si dirige a casa del suo vecchio amico Andy per finirlo una volta per tutte. Ma Andy ha altri piani. In Il culto di Chucky, Chucky ha un pezzo della testa mancante, è senza corpo ed è incatenato ad una tavola. Il culto include anche un'altra bambola di Chucky con occhi molto distanziati e un collo più largo, una versione di recente sepoltura con un braccio solo, una versione con i capelli corti che però non dura a lungo, e una Nika posseduta da Chucky che scappa con Tiffany, lasciandosi dietro diversi Chucky per scatenare il caos. Nel reboot del 2019, Chucky è ora una bambola AI della Kaslan, chiamata Buddy. Indossa una salopette semplice, le righe sulla maglietta sono più larghe e la testa è più grande. Ha occhi giganti, capelli lisci e un'espressione costantemente contorta. Il suo dito indice si illumina per connettersi agli altri dispositivi elettronici Kaslan. E quando si comporta male, i suoi occhi diventano di un rosso acceso. Oh, e ama anche cantare! You are my buddy! Il film mostra brevemente anche una bambola Buddy 2 bionda con i capelli corti, una variante dai capelli rossi, una Buddy afroamericana e persino una versione a forma di orso peloso. È possibile trovare anche accessori come un cappello da Babbo Natale, un elmo da palombaro e un costume da Lepre Cauno. La bambola Buddy originale è programmata per essere malvagia da un operaio scontento della fabbrica. Successivamente, dopo essersi affezionato a Andy, cerca vendetta contro chi minaccia il loro rapporto. Ma alla fine c'ha chi viene sopraffatto, fatto a pezzi e sciolto. Ma si può davvero eliminare una IA difettosa? Ah, a proposito, questo telefono sta davvero iniziando a dare molti problemi. Ah, ecco, molto meglio. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo di passare dalla community per votare, indovinate cosa, esatto il prossimo episodio che volete sul canale. Ciao! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. Ciao!